Consiglio comunale aperto ad Arezzo per discutere del futuro. Consiglio comunale aperto ad Arezzo per discutere del futuro delle scuole dell'infanzia. Romano Prodi domani ad Arezzo, l'iniziativa di Università e Diocesi, la conferenza in diretta su TSD. Italia Unica, arriva anche ad Arezzo il movimento politico di Corrado Passera a guidare l'equipa retina Giorgio Guerrini. Rigutino, la comunità in festa per i 50 anni di sacerdozio di Don Virgilio Annetti. Pupi Avati premiato a Rapolano con la goccia d'oro, la parte bella del matrimonio è l'ultima a fianco della persona che ti ha donato la vita. Buonasera e bentrovati gentili telespettatori. Apriamo il nostro telegiornale con la cronaca. Lontano da occhi indiscreti e approfittando della vegetazione che circondava la proprietà, aveva allestito una coltivazione intensiva di marijuana. Arrestato alle prime ore di stamattina un 48enne, L. Cile Iniziali, autore di un piccolo centro di produzione di droga alla periferia di Arezzo. Le piante erano state coltivate sia in vaso che in terra su un'area prospicente e un immobile apparentemente disabitato. L'indagine è stata portata avanti dalla sezione narcotici della squadra mobile di Arezzo in collaborazione con la squadra di polizia giudiziaria Polstrada. Alle prime ore di oggi è scattata l'operazione. L'uomo è stato colto in flagrante mentre sistemava i canali di irrigazione per la coltivazione. La piantagione è stata distrutta durante le fasi dell'arresto e tutte le piante recuperate sono state sequestrate. Negli uffici della questura sono stati repertati 35,5 kg di marijuana di cui 8,6 kg essiccata. Il narcotest ha evidenziato l'elevatissima qualità dello stupefacente. Il 48enne incensurato si trova presso le camere di sicurezza della questura. in attesa della convalida dell'arresto e del giudizio per direttissima. Consiglio comunale aperto ad Arezzo per discutere del futuro delle scuole dell'infanzia. Cresce la mobilitazione di genitori e insegnanti riunitisi nel Comitato per difendere la gestione diretta di asili e scuole dell'infanzia del Comune di Arezzo. Un modello d'eccellenza costruito nel corso degli ultimi 30 anni è messo in discussione dalla situazione economica e dal blocco del turnover negli enti locali, ovvero la non sostituzione con nuove assunzioni di coloro che vanno in pensione. Era nata da qui la proposta dell'amministrazione di passare due scuole alla gestione statale, riformulata poi nel passaggio della gestione di due sezioni dell'Acropoli e due del Pallanca al privato sociale. Chiediamo al Comune di procedere alla riassunzione del personale che andrà in pensione nei prossimi due o tre anni. Sono circa 27 unità. Chiediamo che vengano rintegrati sulla base della necessità per le scuole di Arezzo di avere comunque una gestione diretta in parte del Comune. Questa gestione diretta consente un buon equilibrio nel sistema integrato che lo stesso Comune persegue. Mentre la conferenza dei capigruppo in Consiglio Comunale ha dato il via libero a un Consiglio Comunale aperto proprio per discutere di questi temi, il Comitato Asili Nido e Scuole dell'Infanzia Bene Comune ha lanciato una manifestazione per venerdì 27 giugno alle 19, che partendo dalla Piazza del Comune arriverà in Piazza Sant'Agostino, passando per Via Cesalpino e Corso Italia. Il periodo è difficile, come dicevo, e c'è tanto malcontento. Questo malcontento è palpabile fin dalla prima infanzia, perché i genitori si incontrano e le insicurezze che si percepiscono si concretizzano anche in questo ambiente, nella scuola, che dovrebbe essere un momento di tranquillità. Invece i continui annunci di esternalizzazione o comunque di non mantenimento di un equilibrio che è rappresentato ora dal sistema integrato, destano forti preoccupazioni in tutti. Torniamo a parlare di cronaca. Si era finto un cliente intenzionato a contrattare una prestazione, ma l'ha derubata della borsetta per poi dileguarsi. Un 31enne residente ad Arezzo è stato denunciato in stato di libertà per rapina aggravata ai danni di una prostituta. L'episodio è avvenuto alle 3 di notte dello scorso 18 giugno ad indicatore alla periferia di Arezzo. L'uomo si era accostato con la vettura alla prostituta per poi portarle via con mossa fulminea la borsetta contenente un cellulare e 150 euro. La donna, caduta a terra, ha riportato lesioni giudicate guaribili in sette giorni dai sanitari del pronto soccorso di Arezzo. Le indagini hanno permesso di individuare il 31enne che durante la perquisizione è stato trovato in possesso del cellulare della donna. Romano Prodi domani ad Arezzo, l'iniziativa di Università e Diocesi, la conferenza in diretta su TSD. I cambiamenti della politica e dell'economia in un orizzonte europeo e mondiale. Questi temi al centro della conferenza di Romano Prodi che si terrà martedì 24 giugno alle 16 presso il campus Aretino dell'Università di Siena. L'iniziativa è stata realizzata dal Dipartimento Universitario di Scienze della Formazione e Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale e dalla Diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro in collaborazione con la sezione Aretina della FUCI, la Federazione Universitaria Cattolica Italiana. La conferenza sarà trasmessa in diretta da TSD sul canale 85 del Digitale e in streaming all'indirizzo web www.tsdtv.it slash live a partire dalle 16. Ad accogliere l'ex premier il prorettore dell'Ateneo Francesco Frati, la direttrice del Dipartimento Universitario Loretta Fabri, l'arcivescovo Riccardo Fontana e il sindaco di Arezzo Giuseppe Fanfani. Politico ed economista, Prodi è stato a capo del governo italiano per due mandati, dal 1996 al 1998 e dal 2006 al 2008. Ministro dell'Industria nel quarto governo Andreotti, poi presidente dell'IRI, presidente della Commissione Europea e ministro della Giustizia, è stato fondatore e leader dell'Ulivo per poi diventare uno dei maggiori rappresentanti del Partito Democratico. Dal 2008 presiede il gruppo di lavoro ONU sulle missioni di pace in Africa, dal febbraio 2014 è presidente dell'International Advisory Board di Unicredit. Dopo la conferenza presso il campus universitario, Prodi si sposterà nel Palazzo Vescovile di Arezzo per assistere alla partita della Nazionale contro l'Uruguay, in calendario per domani alle 18, insieme all'arcivescovo Fontana, agli studenti della FUCI e ad alcuni docenti. La riqualificazione dell'area della stazione ferroviaria deve essere tra le priorità urbanistiche della città di Arezzo. Ad affermarlo sono i popolari per Arezzo che hanno presentato un'interrogazione all'assessore ai lavori pubblici Franco Dringoli, chiedendo spiegazioni circa i futuri sviluppi previsti per l'antistante piazza della Repubblica. Nel 2011, infatti, ricordano i popolari, l'amministrazione comunale annunciò l'intenzione di realizzare una rotonda al posto dell'attuale impianto semaforico e la collocazione al centro della piazza del monumento ai caduti del risorgimento. A distanza di qualche anno, sottolinea il gruppo consigliare, quel progetto sembra abbandonato. Italia Unica arriva anche ad Arezzo il movimento politico di Corrado Passera a guidare l'equipa retina Giorgio Guerrini. Un cantiere contro i partiti personali e l'uomo solo al comando, un'alternativa a chi non si riconosce in Renzi. Così aveva presentato Corrado Passera il cantiere Italia Unica, un movimento che si appresta nel prossimo autunno a diventare un soggetto politico nel panorama nazionale. E anche ad Arezzo è stato presentato all'Arena Eden il progetto della nuova realtà politica. Nasce con l'intento di dare speranza che in un paese come il nostro, con le difficoltà economiche e sociali che attraversa, c'è la possibilità del rinnovamento della politica in questo paese. Vuole dare la speranza soprattutto a quei molti che anche all'ultima consultazione elettorale non sono andati a votare e che sono, ahimè, la maggioranza del paese, che è possibile fare una politica buona, positiva, trasparente, che premia il merito e la disponibilità e la capacità delle persone. È un movimento che nasce da lontano, un lavoro che abbiamo fatto di molti mesi, la presentazione che vi è stata sabato scorso a Roma dei contenuti e ora cominciamo la fase di radicamento territoriale per poi, alla fine dell'estate e all'inizio di autunno, concludere con la presentazione del vero e proprio soggetto politico. Noi abbiamo maturato una forte proposta per lo sviluppo e per la crescita, una proposta che vale oltre 400 miliardi di euro e dimostriamo come si possono recuperare e in che modo possono essere utilizzati. Crediamo che l'emergenza in questo momento e, ahimè, da molti anni sia quella del lavoro, perché purtroppo gli unici dati positivi in questi ultimi anni sono l'aumento della disoccupazione, l'aumento del debito pubblico e la diminuzione della crescita. Rimodulati 24 milioni e 700 mila euro dalla regione per le strade regionali. Lo ha deciso la Giunta su proposta dell'assessore alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli. Al territorio aretino saranno destinati oltre 3 milioni e 500 mila euro destinati in particolar modo alla strada regionale 69, alla 71 e alla 258. Della somma totale stanziata per le strade regionali circa 9 milioni sono costituiti da nuove risorse mentre 15,7 milioni da risorse già presenti nel programma investimenti. Rigutino, la comunità in festa per i 50 anni di sacerdozio di Don Virgilio Annetti. Nell'occasione è stato inaugurato il nuovo portone della chiesa donato dal parroco alla comunità. Ci troviamo a Rigutino per le celebrazioni in vista del 50esimo di Don Virgilio Annetti. Oggi sono 50 anni esatti della sua ordinazione sacerdotale. Il paese qui riunito, per lei, che emozione è? Non è la festa mia, sono 50 anni di una vita trascorsa in una comunità e in me ci sono le storie, i racconti, gli avvenimenti. In qualche modo sono l'archivio per ora di tutte queste famiglie. Ha coronato questi 50 anni donando la porta della chiesa. Questa è un'immagine in cui raccolge la nostra famiglia. L'angelo che è dell'altro porta un po' la somiglianza di mio padre, Giustino. La santa, qui Giulita, quella di mia madre. E il bambino è un mio fratello che è morto giovane. In pratica c'è la mia famiglia. Ma qui c'è soprattutto due santi che alla porta di chiesa accolgono chi viene. Il lavoro è partito due anni fa con un progetto, con un disegno. Sono stati fatti vari bozzetti proprio per arrivare a coincidere con quella che era l'idea di Don Virgilio. Ha voluto anche una scena di martirio proprio per far vedere il motivo. Questi due santi sono due santi martiri a cui appunto questa chiesa è dedicata e qui abbiamo anche una passione, una passione di Cristo che chiaramente è il fulcro un po' di tutto il concetto. Ci troviamo con Monsignor Luciano Giovannetti. Lei l'ha già conosciuto dai tempi del seminario. Un bel traguardo per Don Virgilio. È un bel traguardo, mi pare, 50 anni di sacerdozio, vissuti nella fedeltà. E poi qui c'è la singolarità che questi 50 anni Don Virgilio li ha vissuti tutti a Rigutino. Prima come cappellano e poi come parroco. Si vede la coralità di tutto il popolo, si vede questa gente che è vicina con l'affetto, la stima, la simpatia al proprio parroco. E allora vengono alla memoria le parole che dice Papa Francesco che il pastore deve portare in sé l'odore delle pecore. Ecco qui si vede come Don Virgilio a questi 50 anni ha esercitato fedelmente il suo ministero pastorale. 4.889 persone erano presenti in Piazza Grande sabato 21 giugno per la 127esima edizione della giostra del Saracino dedicata alla liberazione per un incasso complessivo di quasi 98.500 euro. Una giostra da ottimi risultati come quelli registrati dalla nostra emittente nella sua maratona live di oltre 5 ore il portale web della nostra emittente che ospitava lo streaming della manifestazione oltre che aggiornamenti e approfondimenti continui ha stabilito il record di visite registrando 4.586 accessi. Dieci le persone impegnate tra giornalisti, operatori e tecnici per far vivere ai nostri telespettatori tutte le emozioni della giostra con una diretta iniziata alle 18.50 da Piazza San Domenico per il campo generale proseguita dal Sagrato del Duomo per la benedizione solenne al corteo fino ad arrivare in Piazza Grande per il clou della manifestazione. Ma le nostre telecamere non si sono fermate qui seguendo in diretta il corteo dei vincitori bianco-verdi fino in cattedrale per il Tedeum di ringraziamento a San Donato a cui tradizionalmente è dedicata l'edizione di giugno della giostra del Saracino. Sul nostro canale YouTube potete rivivere tutti i momenti di questa emozionante giornata con i video integrali, le interviste e gli approfondimenti. Pupi Avati premiato a Rapolano con la goccia d'oro la parte bella del matrimonio è l'ultima a fianco della persona che ti ha donato la vita. Se ti capita una cosa bella non la racconti a nessuno? Così il regista Pupi Avati ha motivato la scelta alla base della fortunata serie televisiva Un Matrimonio andata in onda la scorsa primavera su Rai 1. E proprio alla famiglia il suo rapporto con il mondo del lavoro e della crisi è stata dedicata all'edizione 2014 della goccia d'oro il riconoscimento al merito della solidarietà che da 23 anni i volontari della misericordia e dei donatori di sangue di Rapolano Terme assegnano a chi sia distinto nel campo del volontariato e del bene comune. Quest'anno tra gli altri il premio è andato il regista bolognese. È un riconoscimento di tutto speciale, di tutto particolare perché evoca il volontariato, evoca quello che uno fa per gli altri e quindi in questa stagione della mia vita in cui il senso di responsabilità nei riguardi del mezzo, dello strumento che uso si è in qualche modo accentuato ecco ritengo che sia un premio non banale anche se viene in un contesto urbano che non è la grande metropoli ma è un piccolo centro. Sul rapporto tra famiglia e lavoro al centro della manifestazione Avati sottolinea che la crisi più che economica è di valori anche nell'ambito parentale. Quelli che si rimentano di questa Italia qua non hanno l'idea di che cosa sia veramente il disagio, la sofferenza, la privazione delle cose. Io credo che sì, certamente stiamo attraversando un momento molto difficile ma non certamente per ragioni economiche, per ragioni morali perché non ci sono più dei modelli di riferimento ai quali far guardare i nostri figli. Rimettere al centro quella che è la fabbrica degli esseri umani qualitativamente apprezzabili, che è la famiglia. Secondo me c'è stata una distrazione da parte di tutti nei riguardi dell'interpretazione corretta dei ruoli che è veramente colpevole. Quando io ho presentato un matrimonio, Agostino Sacca mi disse un matrimonio che dura 50 anni, ma allora è un film in costume. Non si rende conto che invece in questo paese c'è una parte sana di questo paese che invece i matrimoni non soltanto li celebra, li festeggia con le fotografie, i corredi, i pranzi, le cose, ma poi li pratica anche. Io fra sette giorni festeggio 50 anni di matrimonio, per esempio. Ma nessuno sa che la parte bella del matrimonio è nell'ultima parte. Nessuno sa che nello scoprire questa persona che ti ha accanto, che ti ha dato la vita, c'è veramente una storia d'amore che è molto più profonda, molto più definitiva, molto più necessaria di quanto non sia l'innamoramento, l'attrazione e la passione degli inizi. Città al centro, ovvero dagli spazi espositivi in mezzo alla gente. È uno dei fili rossi della 17esima edizione di Dire e Fare, la rassegna delle buone pratiche della pubblica amministrazione promossa da Anci Toscana, l'Associazione dei Comuni, e Regione Toscana, che si presenta quest'anno con molte novità. Raddoppieranno infatti le sedi. Una prima edizione della rassegna si terrà ad Arezzo dal 26 al 28 giugno. La seconda sarà organizzata a Lucca dal 2 al 4 ottobre. Numerosi temi che saranno affrontati, dalla riforma della pubblica amministrazione, alle politiche per i giovani, dalle politiche su immigrazione e asilo, alla finanza locale, dalla legge del Rio, alle iniziative legate al patto della salute. Ed ora, come ogni lunedì, un nuovo appuntamento con la rubrica Corner, l'angolo dello sport, dedicata oggi alla realtà del free move. Nasce dall'esigenza di rinnovare il settore del fitness con lo scopo di proporre una ginnastica per tutti che, lavorando su ogni zona del corpo, mette in evidenza la capacità di equilibrio e le abilità coordinative del singolo individuo. Il free move viene utilizzato per integrare la preparazione sportiva, per effettuare la riabilitazione dopo un infortunio, per aumentare la massa muscolare o, più semplicemente, per rimanere in forma. Ad Arezzo, questa particolare evoluzione del fitness dedicata ad un allenamento funzionale è stata introdotta dal personal trainer Simone Maggini. Alla base di ciascun allenamento, il concetto di small group personal trainer, ovvero piccoli gruppi di lavoro dove ciascun allievo viene seguito individualmente attraverso un'attività personalizzata e diversificata. Piccoli gruppi perché ognuno è diverso dall'altro e quindi l'istruttore può seguire le variazioni individuali in maniera molto più precisa. La possibilità di essere seguiti costantemente da un istruttore unita ad un programma pensato in base alle proprie necessità sono elementi molto apprezzati da chi pratica questa disciplina. Il fatto di interagire anche in piccoli gruppi e con l'istruttore è sicuramente un vantaggio si può lavorare molto meglio. Free Move prevede lo svolgimento di esercizi che incrementano la flessibilità del corpo in grado di prevenire piccoli traumi muscolari e permettendo un miglioramento delle performance. I movimenti non prevedono l'utilizzo di macchinari prestabiliti ma vengono effettuati tutti con piccoli attrezzi manubri, bilancieri, kettlebell e soprattutto a corpo libero proprio per permettere a ogni individuo di essere padrone dei suoi movimenti anche nella vita quotidiana. Un gesto incivile figlio di una società che non riesce più ad educare i suoi giovani così il sindaco di Arezzo Giuseppe Fanfani ha commentato la sottrazione di alcune installazioni di studio AFA per la manifestazione icastica. Si tratta delle statue che erano state collocate sui gradini del Sagrato di San Francesco. Le installazioni, presumibilmente sottratte nella notte di sabato, sono state ritrovate stamattina da una pattuglia della Polizia Municipale in via Oberdan e ricollocate in piazza San Francesco. L'assessore alla cultura Pasquale Macri si è augurato che i responsabili vengano alla luce e ammettano il loro gesto. Con questa notizia è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata con i nostri programmi. Grazie. 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 Grazie.